È in giro con l'auto nonostante la patente sospesa, ma sulla sua strada becca una pattuglia della polizia locale. Va nel panico e invece di fermarsi all'alta ingrana la marcia tentando la fuga. È accaduto giovedì alle 19. Le pattuglie sono riuscite a intercettare l'automobilista in via Mora al termine di un breve inseguimento. Il 35enne, Vicentino, residente in provincia, viene così riconosciuto. L'uomo era stato colpito da un provvedimento di sospensione della patente di guida nel giugno del 2017 perché non si era presentato alla visita di revisione. Oltre alla multa, il 35enne ora dovrà superare alcuni accertamenti per poter riprendere a guidare.